Alle battute finali, il secondo grado del processo ad Antonello Montante, ex numero uno degli industriali siciliani, condannato a 14 anni in primo grado, con l'accusa di associazione, accesso abusivo ai sistemi informatici dello Stato, corruzione, comincia domani così la ringa del professor Carlo Taormina, uno dei difensori del paladino dell'antimafia. Tante sono state le dichiarazioni di Taormina durante questo lungo processo, non ultimo un tweet che ha fatto sobbalzare i PM dalla sedia sul rinvio a giudizio degli imputati della seconda tranche delle indagini, quella dedicata alla politica. Troppo poco il tempo della decisione del GUP, dice Taormina, che ha rinviato tutti a processo. Ma nel secondo grado del rito abbreviato, Taormina e Giuseppe Panepinto, altro avvocato, di Antonello Montante, si stanno giocando il tutto per tutto. Undici anni la richiesta del procuratore generale Giuseppe Lombardo e la corte preseduta da Andrea Inocchipinti si dovrà pronunciare entro la prossima settimana. Intanto Antonello Montante ha ancora l'obbligo di dimora ad Asti.